Non ne ho vera che fa male, non ne ho vera che fa ingrassare, signorina sentimentale, si piace da buon figliare. Dal 7 al 9 settembre la bocciofila Posaccio del Comitato di Verbano Cusiossola ha ospitato l'edizione 2018 dei campionati italiani juniors di bocce, specialità Raffa, che hanno visto fronteggiarsi i più quotati campioncini under 15 ed under 18. Hanno partecipato alla competizione anche i più fulgi di talenti della regione Campania, a cui tuttavia la spedizione in Piemonte ha lasciato l'amaro in bocca. Infatti nella competizione individuale riservata agli under 15 Pasquale Sequino è salito sul terzo gradino del podio. Domenico Palumbo laureatosi campione europeo nell'individuale in Turchia lo scorso mese di agosto, invece nella finalissima dell'individuale appunto della categoria under 18 è stato sconfitto in una partita estremamente combattuta da Francesco De Vincenzo del Comitato di Frosinone. Lo stesso Palumbo, nella giornata inaugurale della competizione, aveva conquistato ex equo con Giuseppe Bisogno, altro atleta campano, il bronzo nella gara del tiro di precisione. Diciamo che la Campania ha ottenuto tre bronzi e un argento, quindi un risultato che a noi non ci ha molto soddisfatto, però comunque un buon incentivo per il prossimo anno per ripartire e ricominciare con i nostri ragazzi e quindi già da ottobre noi cominceremo a lavorare come sempre per farli allenare con le solite nostre gare top player juniors Campania per comunque accrescere in loro la volontà di competizione, di voglia di giocare e di divertirsi. Quindi noi siamo molto fiduciosi che per il prossimo anno possa andare meglio. Nei giorni scorsi inoltre è arrivata una notizia che inorgogisce l'intera Campania delle Bocce. Infatti il cavese Giuseppe Bisogno, vincitore nella passata stagione della classifica Elite Juniors Nazionale, sabato 6 ottobre al Teatro dei Pilarmonici di Ascoli Piceno, riceverà il Marque Bulls Fibbe World, categoria Atleta Junior, prestigioso riconoscimento che premia gli atleti maggiormente distintisi nell'anno agonistico. Per le donne invece nella categoria Atleta Junior sarà premiata Gilda Franceschini del Comitato di Perugia. Di certo è un riconoscimento molto importante, io sono orgoglioso di ricevere questo riconoscimento e questa è una bella soddisfazione nell'ambito boccistico. E anche il corronamento è stato un anno positivo per te dal punto di vista dei risultati, infatti hai vinto anche la classifica Elite Juniors. Sì, è stato un anno davvero molto positivo sia per i successi avuti nella categoria Juniors che in quelli nella categoria Senior. E poi abbiamo concluso con la consegna del premio, del premio Marche. Invece per i prossimi mesi quali sono gli obiettivi che ti sei posto? Beh, i prossimi mesi c'è la prima stagione in categoria A e mi sono di fare bene, di iniziare bene il nuovo anno in una nuova categoria. Noi siamo molto orgogliosi, molto contenti perché si tratta di un premio che ha comunque una storia, una tradizione molto importante innanzitutto per la regione Marche e poi ha assunto una importanza particolare soprattutto a livello nazionale perché questo premio nasce da un'idea di Corrado Tecchi che è l'attuale presidente regionale della Fib Marche e da Nazareno Sacripanti. Nasce questa idea di voler premiare i migliori giocatori nella regione delle Marche. Poi successivamente con il nuovo presidente Junior De Santis questo premio è diventato a scala nazionale. Quindi gli atleti che vengono premiati sono atleti che si sono distinti nel panorama boccistico a livello nazionale.